Andrea Mainardi, tutte le curiosità e la vita privata, chi è lo chef dell'InfVip, dà la prova del cuoco alla promessa di matrimonio. Tra i protagonisti assoluti del grande fratello Vip, c'è il cuoco Andrea Mainardi, noto soprattutto per la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive. Lo chef è divenuto popolare in seguito alla sua partecipazione al cooking show di Ryan alla prova del cuoco. Allievo di Gualtiero Marchesi, quella nel programma di Antonella Clerici non è stata la sua unica esperienza televisiva. Tutto su Andrea Mainardi Il noto chef, con il suo programma, entrava nelle case della gente comune e li aiutava in ricette e piatti unici. Le due stagioni del format televisivo sono state molto gradite, così come molto amate e popolari sono le pubblicazioni sulla cucina del noto chef, due su tutte naturalmente. Libro di ricette per vaporiera e cartocci atomici. 80 ricette creative dal cuoco più pazzo del mondo. Non è la prima volta che un cuoco va al grande fratello, ci era già stato Lorenzo Battistello. La vita privata dello chef Andrea Mainardi.Molto ha fatto discutere la vita privata di Andrea Mainardi, che è stato legato sentimentalmente prima a Laura Forgia e Federica Torti, entrambe provenienti dal mondo dello spettacolo. La prima è una delle showgirl e ballette più conosciute, è stata tra l'altro professoressa all'eredità e anche partecipante alla prova del cuoco. Invece, Federica Torti ha debuttato giovanissima nel TG Rosa, quindi è inviata per la trasmissione di TMC2 come Telma e Luis, mentre nel 2000, sempre su TMC2, è protagonista del programma Video Dedica. Tante sono stati negli anni le sue partecipazioni a programmi TV sia in chiaro che a pagamento. Attualmente, lo chef è fidanzato con la giovane imprenditrice Anna Tripoli, vicepresidente AIB Giovani Imprenditori Education. Di lei si sa bene poco, ama le escursioni e i viaggi. I due presto si sposeranno, come si capisce dalle parole pubblicate da Mainardi, mi hai rubato il cuore tre anni fa, una storia potente e profonda. Ogni volta che ti guardo mi si disegna un sorriso, mi batte forte il cuore, ne abbiamo combinate di tutti i colori, poi il 23 dicembre, ti ho chiesto di sposarmi. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.